Signor Kenway! De Laverandri è morto. Ho le coordinate. So dove sono diretti gli assassini. Allora, sbrighiamoci. Achille e Liam avranno trovato il sito dei precursori. Il mondo è ancora in piedi. Se l'hanno trovato, la terra comunque non ha tremato ancora. Molto gentile da parte loro. Penso ci sia tempo. Signor Gist, state qui. Accompagno io Shea. Signore, col dovuto rispetto, credete che sia saggio? Come gran maestro, devo indagare sui precursori fino in fondo. E schiacciare la confraternita di Achille. Se gli assassini provocano un terremoto, almeno non ci andrà di mezzo tanta gente. In ogni caso, non voglio che i tuoi vecchi colleghi distruggano un sito dei precursori. Certo che... sarebbe bellissimo se non facesse così freddo. Ma attenzione! In alcuni punti è molto sottile. Ma chi le ha portato proprio un bel equipaggio? Sai che non sopravviveranno tutti. in questa condizione. Che peccato. Ma siamo comunque di meno. Stiamo tranquilli. Evitiamo gli scontri non necessari. Dubito che gli assassini ti riconosceranno. Su! Forza! È il momento di errore! Come va? Ok. Come va? Come va? Come va? E' un momento di errore! Dubai, Shane. Troverò un'altra strada. Oh. Get down from here. Get down now! Halt! That shithead guard wrecked me, and my fucking back is killing me. What'd they get you for? Get down! You! Stop! Hold there! You have no business along. Now! I can shoot him! Have a good line on him! He's in my sights. I'll catch up with you one way or another. Talk my word! No! Oh! Oh. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto questo disastro poteva essere evitato se soltanto mi avesse ascoltato. Irrispettoso fino in fondo. Sì, ci stiamo lavorando. Vero o no, hai tradito. La confraternita. Achille e me. Disse colui che mi ha pugnalato alla schiena. Alla tenuta? È stato che valia. Io non sbaglio. No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dovevi proprio portare il manoscritto e la scatola fin qua giù, Lian. La scatola dei precursori è al sicuro. Ci ha pensato il scivoliere. Non la troverai mai. Ho trovato il corpo mio. Ti dispiace! Sei stato tu! Dippe! Mondo vuto! No, tu hai scelto di farlo! Non mi hai potuto farci questo! Hai persino ucciso! Basta! Tu penserai di uscire di vivi! È stata... Fortuna. Quante volte devo dirtelo, Liam. La fortuna non esiste. E come ci sei riuscito, bastardo? Hai distrutto gli assassini. Tradito i tuoi amici. Ti sei unito ai nostri nemici. E per cosa? Per salvare il mondo. Spero che ne valga la pena. La fortuna non esiste. No! Perché no? Achille è debole ora. È un mentore senza seguaci. In che razza di mondo vogliamo vivere se non conosciamo la pietà? E poi ora... ha compreso cosa sono i siti dei precursori. Senza di lui gli assassini continueranno le ricerche. Sì, hai ragione. Ricorda cosa è successo qui. Lo farò. Ma il mondo no. Adesso cosa succede? Ghist avrà il compito di guidare l'eliminazione di tutto quel che rimane degli assassini. Beh, Wix e gli altri lo assisteranno, ovvio. Achille ha perso tutto ormai. Non oserà lasciare la sua tenuta. Infatti. Shay, anche se la nostra ricerca dei siti dei precursori è alla fine, voglio la scatola. Devi trovarla per l'ordine e per me. Magari serviranno anni di ricerche. Potrebbe essere ovunque a quest'ora. Potrebbe volerci una vita. Vuoi accettare questa sfida? Bene. Incredibile. Shay aveva quel potenziale. goinale Conoscendo. Questa ovunque. Questa è solo.